ma allora è vero siamo rimasti soli al mondo soli al mondo è una produzione dello spazio naselli e debutterà molto molto presto debutterà esattamente il questo non è uno scherzo sta accadendo veramente e tra poco spariremo anche noi se state ascoltando questo messaggio vuol dire che voi ci siete ancora e dunque non ci resta che augurarvi buona fortuna da questo momento siete soli al mondo grazie a tutti